Ha avuto un lieto fine la storia di una mamma giunta all'ospedale San Donato di Arezzo positiva al covid di 35 settimane e con problemi respiratori importanti grazie ad un team che è intervenuto tempestivamente ad un parto cesareo adesso è a casa a godersi il suo bambino. È stato un lavoro d'equip ci spiegano nel reparto di ostetricia dell'ospedale San Donato di Arezzo. I professionisti di malattie infettive, terapia intensiva, ostetricia e neonatologia sono stati coinvolti per garantire questo parto cesareo in sicurezza. La tempistica di intervento ci dicono ha fatto la differenza, la mamma rischiava di dover essere intubata. Taglio cesareo che è stato fatto in una sala operatoria appositamente allestita per operare pazienti covid in estrema sicurezza e da un punto di vista tecnico è rimasta la stessa cosa quella che dovevamo fare ma è stata ovviamente un po' più complicata perché andare ad operare con tutti i presidi di protezione addosso risulta sempre un po' più complesso. La giovane partoriente, 21 anni, originaria del Bangladesh, non parlava italiano né lei né il marito. Come avete comunicato con lei? Abbiamo comunicato gesti, rassicurare la paziente che stava andando tutto bene, che stavamo facendo tutto in tranquillità, in serenità, in sicurezza e fortunatamente il linguaggio non verbale anche con la presenza appunto di mascherine ha funzionato e quindi la paziente è stata serena. La donna ancora positiva ma sintomatica si trova a casa, il bimbo non è stato contagiato e mentre ci troviamo in reparto una vita viene alla luce, è un maschietto sano, bellissimo, lo tiene in braccio l'amica della neomamma. Turab, lui si chiama Turab, ho seguito tutta la sua gravidanza con lei nonostante questa situazione difficile di covid, tutte le visite perché lei il marito ce l'ha in Pakistan, quindi non siamo come le amiche ma più di amiche, siamo come le sorelle. Grazie.